Ciao a tutti e bentornati sul mio canale! Oggi video del bullet journal, vado a fare il mese di febbraio come l'altra volta ho già preparato le basi a matita e ripasseremo le cose a penna ovviamente non è un bullet journal serio, nel senso che ho poche cosine, però ecco è una cosa che sto facendo in più, che sto provando a fare a vedere se mi può piacere o meno passiamo sulla scrivania così iniziamo a fare appunto la decorazione come vi dicevo ho già impostato le pagine a matita e ora andiamo a decorare il mio bullet journal nel mese di febbraio iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale! iscriviti al canale 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 ciao 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 ciao